Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale, sono Daniele Oggi voglio parlare con voi di una cosa molto importante di ebay La strategia che io utilizzo per tenere alto il traffico e le vendite nel lavoro giornaliero Quindi resta qui e se vendi su ebay non ti perdere questo video Ragazzi eccoci qua di nuovo con un nuovo video So che non sono molto presente Però come vi ho detto questo è il quarto trimestre dell'anno E quindi c'è molto più lavoro e non sono molto più presente Ma ho in serbo un piano e uno sviluppo ben preciso per youtube per il 2022 Quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti a questo canale Sono Daniele, parlo di dropshipping sui marketplace tipo ebay, walmart, new egg, facebook marketplace E sono l'unico in Italia che ti spiegherà come fare dropshipping sui marketplace Tornando al discorso di oggi ragazzi Voglio spiegarvi una strategia per tenere alto il traffico Perché quello che molti venditori notano su ebay Sia che tu faccia dropshipping o sia che tu venda prodotti casalinghi Che hai a casa o nel magazzino normali Ci sono ovviamente dei cali di traffico E si va a vedere un calo di traffico o di vendite comunque giornaliero Quindi ogni settimana si vende sempre di meno E oggi voglio chiarire con voi il perché accade Come risolverlo e soprattutto come stare sempre in top alle ricerche E avere sempre il massimo delle vendite possibili Innanzitutto quello che sto andando a spiegarvi Si attua maggiormente nei negozi a grande numero di oggetti Se mi conosci o se hai comprato il mio corso Sai che ho un corso su dropshipping su ebay Dropshippingkilometrizero.com Trovi il link in descrizione Sai che a me piace lavorare principalmente con un grosso numero di oggetti Questo per diversi motivi Per la serie dei grandi numeri Ne ho parlato nel canale, ne ho parlato in inglese Ne ho parlato un sacco Provate a vedere i miei vecchi video Vai sulla playlist di youtube Vai sulla playlist di ebay Dropshipping ebay Il problema è che quando si lavora con i grandi numeri Poi si va a vedere un calo costante nelle vendite Venderai sempre ma ovviamente vendrai un po' di meno ogni periodo che passa Ora cosa succede? Dobbiamo prima capire come funziona l'algoritmo di ebay Perché l'algoritmo di ebay funziona a rotazione Oltre ovviamente all'ottimizzare i titoli e le descrizioni per i risultati di ricerca E tutti questi lavori Ebay ha alla base una sorta di rotazione tra venditori Questo perché su ebay La frontiera rientrata su ebay almeno fino a un po' di tempo fa era molto semplice Quindi questo ha attirato tantissimi negli anni venditori Sia amatoriali Sia professionisti Sia aziende Sia truffatori Qualsiasi tipo di venditori sono stati attratti da ebay Perché fondamentalmente basta registrarsi e metterli in vendita Senza nessun tipo di verifica Senza nessun requisito particolare Ora essendoci questa quantità enorme di persone Ci sono anche una quantità enorme di persone che vendono le stesse cose Se voi cercate un orologio su ebay Questo stesso orologio trovate 50 annunci e lo stesso orologio Anche più o meno con prezzi simili Poi c'è quello più ottimizzato Quello meno ottimizzato Ma la base, il principio è questo Quindi cosa accade? Accade che ovviamente Ebay va a fare una rotazione tra venditori E va a utilizzare centinaia di variabili Per mettere un venditore in lista Diciamo in top Come si dice in italiano In cima In cima ai risultati Rispetto a un altro venditore Ok? Ma non è detto che sia in cima Oggi lo sarà anche domani E viceversa Quindi Quello che noi sappiamo Possiamo andare ad applicare le cose che sappiamo Per cercare di essere sempre In cima ai risultati E ora ti spiegherò Qualche variabile Molto molto importante Che ebay L'algoritmo di ebay Tiene in considerazione Per tenerti in cima Ovviamente il prezzo Ovviamente le immagini E che non vado a ripetere queste cose Che già sappiamo Abbiamo trattato tantissimo Vatti a vedere gli altri video Ma andrò a trattare In particolare Una strategia che utilizzo E che Io andrò a utilizzare In questo esempio Per fatti capire Un negozio Da circa 10.000 articoli Perché quando facciamo Dropshipping Diciamo su ebay 10.000 articoli È la La cifra massima O comunque La cifra media Che si utilizza Che ogni negozio Utilizza Come numero di articoli Perché è giusto compromesso Tra costo di istruzione Costo dei software Rientri Profitti E quant'altro Va bene Ma questo è un discorso Relativo a dropshipping Che non fa parte Di questo video Ora Cosa Succede Noi abbiamo 10.000 articoli Mettiamo 10.000 articoli Ovviamente Con un'ottimizzazione Basata sulla strategia De grandi numeri Quindi andremo A ottimizzare Dopo che l'articolo Vende E non prima Ma cosa succede Unoltre abbiamo Questi 10.000 articoli Restano 1, 2, 3 mesi 4 mesi Perché ovviamente Non andiamo A mettere 10.000 articoli Al giorno Cosa succede Il traffico Andrà a stabilizzarsi Il problema È che oltre che Il traffico Va a stabilizzarsi Ebay Comincerà A mettere I due annunci Sempre In pagine Più basse Magari L'annuncio Corretto Il prezzo Corretto Ti metterà In cima Le risultate Di ricerca Ma man mano Ti abbasserà Di ranking Quindi le vendite Saranno O costanti O leggermente In declino Il nostro Il nostro punto Il nostro punto Quello che vogliamo Fare noi Ragazzi È aumentare Le vendite Perché il nostro scopo Le vendite È aumentarle Non ci interessa Tenere le standard Stabilizzate Non ci interessa Che scendano Ma ci interessa Che salgono Ok Cosa andiamo A fare Ecco quello che faccio Io In un negozio Di 10.000 Articoli Oltre ovviamente Alle varie Ottimizzazioni Quello che faccio Io È innanzitutto Prendo i numeri Del mese Cioè Quanti giorni Ci siano In un mese Ok Per facilità Di conti Mettiamo Che tutti i messi Abbiano 30 giorni Ora Abbiamo detto Che io Ho 10.000 Articoli Inseriti Cosa vado A fare Quello che vado A fare È io Prendo La quantità Massima Di articoli Che ho inseriti Nel mio caso 10.000 E la divido Per il numero Di giorni Del mese Avrò quindi 333 Articoli Se avessi 1.000 Articoli Sarebbe 1.000 Sarebbe 33 Se avessi 100 Articoli Sarebbe 3 Se avessi 30 Articoli Sarebbe 1 Ok Meno Di questi Articoli Poi si va A cambiare Strategia Si applicano Altri Diciamo Numeri Di giorni E quant'altro Quindi io So che ho 333 Articoli Cosa vado A fare Oggi È giorno 1 Ok Per esempio Vado io A filtrare Nel mio Software Gestionale Anche se hai Tutti questi Articoli Sarebbe Un software Gestionale O anche Con i filtri Ebay Vado a selezionare Tutti gli articoli Caricati Ok Almeno 30 giorni Prima Quindi se oggi È il primo Dicembre Andrò a selezionare Tutti gli articoli Caricati Almeno il primo Novembre Andrò a escludere Tutti gli articoli Che hanno avuto Almeno Una vendita Andrò a escludere Tutti gli articoli Che hanno Almeno Mettiamo Due persone Che li Li tengono D'occhio Che li Guardano Ok E andrò A escludere Tutti gli articoli Ad alte Visualizzazioni Se un articolo Ha più di 50 Visualizzazioni Lo escludo Da questa lista Avrò quindi Un risultato Di articoli Caricati A meno Un mese Prima Con Basse Visualizzazioni Con nessuno Che li Guarda E con nessuna Vendita Ora Cosa faccio In questi Articoli Andrò A selezionare I 333 Articoli Di questi E li andrò A eliminare Perché sono tutti Articoli Che non mi portano Profitto E che non mi portano Nessun tipo Di risultato E difficilmente Lo porteranno Ok Perché non hanno Visualizzazioni Non hanno Gente che li guarda E non hanno vendite Li andrò A eliminare Dopo che avrò Eliminato Questi 333 Articoli Ovviamente Ragazzi Questa strategia Era anche ottimizzata Per la sottostruzione Nel negozio Ibe Italia 10.000 Articoli Ma si applica A questa istituzione Come abbiamo detto Prima Basta che fate I corretti calcoli Di numero di oggetti Una volta Che andrò A rimuovere Questi 333 Articoli Andrò A mettere 333 Articoli Nuovi Di categorie Che hanno Già venduto Se io Nel mio negozio Ho per esempio In un mese Mille vendite Ho Mille vendite Quindi suddivise In 420 Dalla categoria Giocattoli 420 Dalla categoria Sport 220 Dalla categoria Giardinaggio E 120 Dalla categoria Makeup Io andrò A smettere 333 Articoli Suddivisi Nelle categorie In cui vendo Molto di più Quindi in questo caso Sport e giocattoli Quindi andrò a fare Magari 165 Articoli Da uno E 168 Credo che sia Dall'altro Questo perché Io voglio andare A ottimizzare Il più possibile Le vendite Del mio negozio E quindi voglio andare A inserire Articoli Di categorie Che sono sicuro Che vendano E che potrebbero Vendere Noi in futuro Se voglio Ancora di più Ottimizzare Le mio Listing Andrò A selezionare Non solo Categorie Che già vendono Ma andrò a vedere La mia lista Di articoli venduti Durante il mese Scorso Durante il mese Passato E andrò a inserire Articoli Prettamente Simili A quelli che hanno Già venduto O che meglio Hanno venduto Più volte Così da avere Più articoli Possibili Che Già hanno venduto Ok Ora Il secondo giorno Quindi passiamo A giorno 2 Dicembre Faccio la stessa cosa Però questa volta I filtri Lascio tutti uguali Tranne per il giorno Metto articoli Caricati Massimo Entro giorno 2 Novembre Quindi sempre 30 giorni prima E poi vado a rimettere Articoli nuovi Giorno 3 La stessa cosa Giorno 4 La stessa cosa In un paio di mesi I 30 giorni precedenti Saranno Sempre 333 articoli Ok Perché avete Azionato questo Meccanismo Fate questo Tutti i giorni E il risultato Sa avere Uno Ok Andiamo a vedere I vantaggi Uno Prodotti freschi Ogni giorno Su ebay Ebay premia La invisibilità Chi è attivo I venditori attivi Che mettono articoli E chi ebay Vuole nuovi articoli Continuamente Per Tenere fresco Il marketplace Quindi se tu Carichi articoli Giornamente Ebay ti dà più traffico Non solo Negli articoli nuovi Ma in tutto il tuo negozio Anche negli articoli vecchi Questo è quello Che ci interessa Principalmente a noi Dare visibilità Al nostro negozio A tutti i nostri articoli Quindi inserire nuovi oggetti Ci dà più visibilità Punto uno Secondo Andiamo a pulire Il nostro negozio Tra tutti gli oggetti Che non vendono Non venderanno Sicuramente Quindi non ci portano profitto Ma ci costano Perché oggetti costano In software In promozione E quant'altro Andando a eliminare Prodotti con bassa visualizzazione Lasciamo quelli più visualizzazione Andiamo a impattare Un'altra variante Dell'algoritmo Ebay Che mostra Che abbiamo tutti i prodotti Con tante visualizzazioni Con tante vendite Quindi ci dà sempre più visibilità Quarto Andiamo a inserire Prodotti di categorie Che già vendono E articoli Che già vendono Comunque articoli simili E quindi siamo sicuri Che potrebbero vendere Questi sono Quattro punti fondamentali Per aumentare le vendite E vi assicuro Che applicando questa strategia A lungo termine Perché ovviamente Per i riciclo Servono comunque Un paio di mesi In massimo Quattro o cinque mesi Applicando giornalmente Questa strategia Avete un negozio Pieno Di articoli che vendono E senza articoli Che non vendono Perché avete già Levato tutti gli articoli Che non vendono E state tenendo Solo articoli che vendono E articoli simili Questo ragazzi Può darvi un incremento Di vendite Fino a 300% Ovviamente Questa è una strategia Poco applicabile Da chi non lavora In dropshipping Ma comunque Se avete un magazzino Con tanti oggetti Potete utilizzare Questa strategia Più o meno Per cambiare stock E prendere nuovo stock Ma ovviamente Si basa principalmente Sul dropshipping Questa è una delle strategie Chiavi del mio corso Dropshipping Kiloometri0.com Se vi interessa Andatelo a vedere Inoltre Ricordate Distrib E mettete mi piace A questo video Perché presto Stanno arrivando Tantissime novità Ho già Molto molto materiale Pronto Non solo su ebay Ma anche su molti Nuori marketplace Che non conoscete Che in Italia Non conosce nessuno E che forse In tutto il mondo Quasi nessuno Ve ne parla Quindi ragazzi Vi aspetto Al prossimo video Grazie per avermi seguito Ciao